Signore e signori benvenuti in questo nuovissimo video molto breve ma intenso perché parliamo di un argomento molto importante e interessante Oggi è il 22 novembre 2024 Ok, non è questo l'importante di questo video perché non ve ne fregherà niente di orario Vi vado a sapere che questo video qui è per annunciare che tornerà la rubrica in cui predicteremo i cantanti che andremo al nostro prossimo festival di Sanremo Non nostro, quello di Carlo Conti Ma non comincerò oggi, avrei voluto fare ogni martedì un video ma non è nei miei piani essere una persona ordinata e insomma che sa gestire bene le cose E quindi faremo tutto in fretta e furia da martedì prossimo Bene, quindi da martedì a venerdì prossimo faremo quattro video e stavolta faccioci prima che Carlo Conti gli annunci E vi racconterò quei sono secondo me i cantanti per ogni categoria e vi spiegherò ovviamente stanno facendo Che andranno ai festival di Sanremo E venerdì doppio video perché vi parlerò anche di quei 30 nomi che per me ci andranno Ok, detto ciò Vi lascio Iscrivetevi al canale se volete altri video Sanremoesi perché ne vorrete quando c'è il primo E ovviamente Potrei fare anche qualche tier list Da qua a febbraio sarebbe interessante e una figata a parere mio Fino ad allora vi lascio così A martedì con il video di Sanremo Iscrivetevi al canale per non perdere nessun video su Sanremo perché so che vi piace Lo so bene Vi guardo bene Quindi da martedì a venerdì faremo come facciamo quella volta per il nostro Presidente della Repubblica E faremo quelle quattro giornate dedicate a quel festival e porteremo video per video Cheat potrebbe essere perché non le porterò perché sarò stanco non riuscirò a ditarle Oppure potrei finalmente portare a termine una cosa per come l'ho detta adesso Ma fatto sta che tutto lo scopriremo e stiamo alla prossima Da adesso ad allora vi lascio a divertirvi a dirmi qua sotto nei commenti quali sono secondo voi i cantanti che andano a febbraio di Sanremo Quindi show must go on Siete a martedì con i primi Prima che avevo i cantanti Spoiler sarà Reunion e gruppi di cantanti Baraduetti bla 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 Ma il resto ve lo dirò quel giorno Dai A presto Sono un po' stanco E come direbbe una persona importante Il viaggio sta per cominciare Quindi non perdete nessun pezzo del viaggio Nessuna tappa Ve lo consiglio E scusatemi se lo dico Dimentichavo di aggiungere una piccolissima cosa Che i cantanti verranno annunciati da Carlo Conti Il primo dicembre che è la domenica Al luna e mezza Ma per allora avremo finito di parlarne Perché dobbiamo parlarne prima Perché? Perché le cose avevamo fatto bene Di fretta ma bene E forse l'ultima cosa che faccio Quei video lì ve li porto Prima che ci fia Che sanremo Cioè Prima che vengano annunciati Non feste Perché feste è a febbraio Quindi vabbè Mi raccomando Seguite queste avventure Pazze e veloci Show must go Sempre Dai A presto E iscrivete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti